Cari colleghi e cari colleghi, l'organismo congressuale Forense di cui io sono componente per il distretto di Bari ha organizzato una manifestazione sulla dignità e l'orgoglio dell'avvocatura prevista per venerdì prossimo alle ore 15.30 presso il centro polifunzionale studenti l'ex Palazzo delle Poste dell'Università degli Studi di Bari. Abbiamo ritenuto di convocare questa assemblea per incontrare la politica, incontrare coloro che domani saranno chiamati a prendere le decisioni sia a livello parlamentare che a livello governativo che riguardano la giustizia per rivolgere loro le nostre istanze, quelle che sono le nostre idee per risolvere i problemi della centralità della giurisdizione ma anche dell'autonomia e di indipendenza dell'avvocatura italiana. Rivolgere ai politici le nostre richieste che attengono anche e soprattutto allo svolgimento della funzione giurisdizionale, ai compiti che l'avvocatura deve assolvere, al coinvolgimento pieno dell'avvocatura nei luoghi dove si prendono decisioni sulla giustizia ed anche e soprattutto sui problemi che riguardano la giusta remunerazione degli avvocati. L'intento è quindi quello di condividere con la politica queste idee, onde è soprattutto di parlarne prima, prima della scadenza prossima del 4 marzo che ci chiamerà a scegliere i nostri rappresentanti.